Buongiorno a tutti ragazzi ed è da un bel pezzo che non ricominciamo fallout perché non sono anch'io perché non ho voluto ricominciarlo, non sono più abituato ai comandi di sto gioco e basta, qui non ho controllato vero? no sì mi sembra di sì perché è tutto vuoto, non sono più abituato ai sbalzi di... aspetta io dico evitiamo di borseggiarli che sennò ci partono, parte la rissa che non finisce più e cos'è che mi ha detto? ah giusto vabbè, ma dobbiamo andare per eccezione, per fortuna, non mi sembra che di averla già presa vabbè ok ne dobbiamo andare sul tetto, perché? il nucleo l'ho già preso, se l'avete visto negli altri video ok finalmente, allora mi sembra che... vabbè ora non è il momento adatto di... anzi quasi quasi ecco questo qua, ma si lo prendono, ve lo ascoltate voi, che come ho troppo peso... ah è vero l'armatura atomica ti dà doping, che poi può dare di più dovrebbe andare? secondo la logica del gioco mi sembra che vada, si, ok, si è anche abbastanza danneggiata ah, aspettate... come, com'è che si... qualcuno mi... ah già avevo modificato eh si, non sono più abituato a... ah, me l'ho già equipaggiato? ok, no... gli oggetti hanno la priorità venite qui, venite qui stronzi no, son cazzi vostri... cazzi vostri adesso guarda che roba, de gay o facciamo? de gay o altro che... mi risparmi un paio di coglioni andiamo qua questo deve essere il capo dei mercen... dei perdoni no, è un perdone qualsiasi quello un altro comunissimo perdone sbaglio o ce n'era un altro? aspetta, cosa ho visto? cosa cazzo è quello? senti, non è il momento adatto di combattere, perché abbiamo un death loot alle spalle aspetta, portiamolo, dobbiamo portarlo ok, è andato... no, merda! portiamolo, portiamolo davanti al museo, così lo può bersagliare anche... e presto un Garvey che dovrà fare qualcosa aiuto non colpire il cane, sta ronzo guardate guardate dai oh, le sta... le sta prendendo come un... che è una meraviglia funziona sta tattica però sii, qualcosi... ah, devo liberare... devo citare tutti ora magari fossero finiti, si nasconde quello esci, esci allora il canello ci ha capito morto vabbè, i cosi di più o dopo sono sicuro che non siete qui più a vedere un... che ne so un raccogli spazzatura simulator, quindi do fare off camera anche perché ho... ah, mi ero dimenticato che abbiamo anche l'energia qua non è come... come Call of Duty che tu... tu corri e basta poi corri per sempre perché ti nascondi? ehi, son di qua, li va di là logica fai rapport... rapporto... oh mio dio neanche fosse una roba importantissima allora, facciamo rapporto a Varesta che cosa vuoi dirmi? incredibile, madonna, ho ucciso qualcuno eh, si dai si dai è stato abbastanza utile anche lui ascolta quando ci siamo conosciuti hai detto che ero in debito con te per averci aiutato immagino che tu te lo sia guadagnato quindi ecco cosa che mi ha dato? ah, c'è la diffusione, tappi accetto ogni pagamento ogni pagamento grazie per avermi detto mercenario nonostante io ti abbia aiutato figlio di puta se ti aiuto che stai morendo e tu mi dici mercenario grazie tipo come... come me? che cosa dovrei fare? dovrai restare forte si, ok, ma... eh... a parte metafori cazzate simili possiamo arrivare al punto dove restare forte vabbè non ho capito un cazzo ok, ti ascolto ok, ti ascolto fuori dal tempo ah, si va fuori dal tempo siamo a 200 anni dopo si, nostro video è vivo ok stranza eeeh... allora non voglio essere cattivo quindi ecco non so come devo sembrarti le visioni sono strane e non sempre chiare si, visioni si chiama la terroca non visioni per dirti dove cominciare nella grande gemma verde del conto di diamond city più corrotta dell'italia più grande insediamento della zona un po' vago no dai mi serve di più non mi interessa che si stanca quella robaccia 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 la terroca la chiami robaccia? se vi danno la droga e ringerziate perché costa ok sono troppo specifico ah giusto mi chiamo un po' mi ero dimenticato comunque abbiamo preso davvero pochi danni io pensavo ahhh qua ci ammazza invece mi avrebbe spinto no in culo no lui esatto una scusa più che sufficiente giusto ed è quasi qua qua non è il posto migliore ma la cosa che mi sta più eh non posso aprire da questo devo ricordarmi di tornare qua perché in due giochi mi sono giocato due volte e mi sono dimenticato ca ok ragazzi ora racconto tutto quello che c'era nel raggio di questa città e e vorrei andare qua dove è uscito il deathlow e vedere infatti poi aspettate dietro non c'è niente e infatti si vado qui in giro con la pistola non vado in giro con un indraglione quindi intrega intrega basta cosa c'è qua sotto archivi e cazzo de varie portacenere a catena cosa serviva quella catena non è vivo ah ok non è vivo un bramino ma che cazzo ho fatto qui no no si vabbè il cane lo da stare caricato come un ma davvero ho trovato troppa roba mi denunciano per sfruttamento di cani e vestiario abitono qualcosa di inutile allora qualcosa che pesi due ma anche tutti perché completo la perdona chi cazzo se lo caga ma ne troveremo a quintali più avanti nel gioco ma quintali c'è nel primo salvataggio era tutto no aspetta questo non dobbiamo buttarlo via beh se ci torna utile in futuro mi son trovato tipo con 27 no 40 cosiddetti da perdone ho finalmente qualcosa scassinabile non vi giuro sono andato in giro per la città ogni no neanche ogni 3x3 erano tutti non potevo fare un cazzo era una difficoltà media 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 e allora vaffanculo a cestino per il prazo che cavolo era vabbè non mi interessa qua è cercavate di nascondermelo eh ma non potremmo usare un martello come arma c'è sti martelli qui o qua o no qua niente tante chiavi inglese lanterna cazzo sapevo buttiamo via qualcos'altro no io non vado avanti così eh cappuccio 1 ma si petta completo i completi buttiamoli che tanto e troveremo nemici ah ratitalpa eeeh ratitalpa aspetta no cosa leva per ruote si un colpo poi adesso ho anche l'armatura dopante quindi cos'era quello non era un normale ratitalpa avevi visto qui un simbolo che ratitalpa e questo cos'è? ah no sempre ratitalpa ok cos'è? si si sempre ratitalpa mi sembra di aver visto un simbolo tipo sapete mi sembra di aver visto un teschio vicino al nome che vuol dire che un livello più alto del tuo e quindi devi scapparsi se vuoi si ma non ho voli di porco è vivo posso andare avanti tutta la notte fucile doppia canna reggi questo reggi questo lo spav lo spav uno due bene si aspetta che ricarico uno due oh fatto carne di maierdurk beh ovvio che non possiamo andare su così quindi nemico nemico si è rimarato talpa da non posso andare in giro con le lepe ruote esploriamo tutto uno schelettero cassa di legno scassina no no eh si quel cazzo che è scassinabile guarda che no ok altre 27 e è fatto finalmente fantastico proprio non non dove sto rato talpa dannato ma vabbè non può interessarmi di meno qua non c'è più niente ormai e qua questo è un predone ah no questi armi mi piacciono mi piacciono ma trovo visto qualcosa di utile vorremmo andare di qua voglio uff non posso neanche dare niente al cane perchè è sovraccaricato le salopette tutte inutili che non servono a niente oh oh ma io io mi odio devo fare città lattina scatoletta si cosa mi è piaciuto non posso dormire al cuscino sul cuscino si quando 223 qualcosa devo buttarla ok io dico buttiamo questa e questa e questo e questo vabbè non serve andiamo avanti così vi faccio vi schifo ho buttato via un macese spero di no io non volevo andare con non volevo tornare assentuari così in questo con questa velocità e questa è la cosa brutta devi raccogliere tutto come uno spazzino e dopo guarda cominciare niente rovi il cane è sovraccaricato spero che rega ah regge ok che strano qui un altro scheletro con vabbè sugar bombs oh non c'è niente credo che sia finito io dico senti la roba l'abbiamo presa in pratica quindi andiamo via perché qua qua non si è rotta anche una gamba ecco perché o no sicura della maggiore atomica è andata ah ok ha lagato stavo infatti mi stavo già facendo i rami tipo non andarci non andarci dove sono finito ah qui qui c'era una porta qua ah no se la sono inventata preparatevi a una lunga stella non da si si sono già da come energia energia esaurita oh siamo arrivati siamo arrivati adesso no, dobbiamo farlo bene oh non è finita intanto sistemiamo le gambe ci dobbiamo sistemare tutto in pratica eh sistemato, perfetto ora faccio lucente come nuova vieni qua fermo qua fermo qua dammi tutto si lo sono suicidio ma questa qua ho preso l'arobono si mi l'ho presa ora i materiali vanno depositati tutti il resto va selezionato e come dire quattro pistole quelle come si chiamano quelle artigianali volt action va bene voltello la leva per volte mi tengo il macete si mi tengo il macete questo qua lo metto via se no riciclarlo o no volt action un altro moschetto moschetto laser direi tenerlo mirino luminoso leggero dico teniamoci con la pesante non dovrei dire pesante è esagerato adesso manca eccolo qui aspettate no ho sbagliato ah già visto voglio complicarmi le cose difficoltà molto fa chi l'ha messa io non l'ho messa aspetta salvo mettere i posti salvo mettere aspetti ok allora voglio rendere le cose difficili ok breate per me saremo in sopravvivenza hai visto assenza di viaggio veloce salvataggio solo quando dormi pericoli più letali malattie fatica è la prima volta è la prima volta che faccio queste cose che c'è è la prima volta che faccio ops con l'inquoio non dovevo buttare non dovevo buttare l'inquoio dico quello destra destra o tenendo sinistra o no? gamba destra sì questo la dogo torace ce l'ho torace e torace buttato ok oh non ho proprio niente adesso è un voto ma perché? guardatelo che fiero che adesso ho prodotto con la coppola in testa della vecchia o che giocatore di scopa ci manca solo ma c'è davvero deboli non me l'aspettavo così difficile davvero ricicla 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 ah non posso ricicla tutto tutto qua ce ne vuole questo qua non serve a niente questo ancora meno cos'è sta qua? cos'era? fogliatore rosato buttalo via buttalo via buttalo via la pala buttala via che? ah ti fa danni che cavolo e ditemelo e altri dicono e altri io non sapevo che mi facesse danni sta roba mi sento tradito come giuda no come gesù con giuda cazzo non mi dicono niente mi fa danni tenere che cavolo ok comunque sistemiamo mettiamoci armi 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 vabbè io dico le mo io le granate le uso difficilmente cioè non le uso mai moschetto laser io lo usavo spesso per i cecchinaggi anzi sentite quelle artigianali no e è il mio posto levati allora mettiamo via tutto quello che non è questa è utile è stata ostile si non serve niente in pratica quasi niente e pfff questa cosa è verrebbe cotta ma ma si no non prendere non prendere e si dico teniamoci no aspetta 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 faccio io girafiore gomme gomme beer medix si questa no queste si lo dico mettiamo via tutto questi ne teniamo sempre tenerne no c'è tenerne sempre uno di scorta tortine uova farcite via 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 casco protettivo no dimmi a tutto molotov ok mettere via oh ora si che siamo davvero leggeri iiii 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 io sto riciclando qua perché non ho nient'altro da fare e anche perché il legno è è difficile da avere non c'è serve difficile da avere assolutamente no allora questo li metto mirino cazzo non posso volevo mettere di quello vabbè condensatore triplo ma non tanto teniamoci queste che sono fidabili e dove dove l'avevo messo questo qua via allora che armi abbiamo e 10 mm giro in tondo ah dobbiamo parlare con lui ah se tu abbia deciso di venire con noi dovevo dare ascolto a mamma marty fin dall'inizio ahah eh credo che potremmo stabilirci qui si si perfetto a me va bene strano essere con me vivevo qui io vivevo prima della guerra si devi spiegare di tutto ok ok dai gli spiego tutto si vabbè sapete già la storia perché ve l'ho fatta fare io vecchi gulfer bellici ci sono dei gulfer bellici ah eh grazie si ho preso il figlio e qui e lì eh ah ah non mi sta dicendo mi sei buggato o cosa spero non ti dispiace ah ho ricevuto una richiesta oh cominciamo ho ricevuto una richiesta da un incendiamento vabbè si ok perché devo farlo per forza ma si sturdesse testo si guarda livello livello più yeeeh quanta quanta guarda quanta esperienza guarda quanta esperienza ok è finita e quanta genera ma vai vai lì potenziamo cosa volevo fare quello dello scarsinatore ecco scarsinatore va bene un tono certo ora invece no invece basta eeeh allora è stato è stato corto vabbè Storges vai a farti potere è stato piuttosto corto come episodio però visto che ora siamo vestiti l'abbiamo concluso bene come episodio quindi ci vediamo al prossimo e continuate a seguirci